Si trovava ai domiciliari per spaccio ma non aveva mai interrotto la sua attività illecita, per lui così sono scattate le manette per la terza volta. A pizzicarlo con lo stupefacente e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni Valdarno. L'uomo infatti era già stato arrestato due volte dai militari, sempre per reati connessi allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Alcuni mesi fa addirittura era stato sorpreso a spacciare droga da casa propria mentre si trovava agli arresti domiciliari a Montevarchi. Da quel momento era stato trasferito in carcere ma dopo qualche mese era riuscito ad ottenere nuovamente la misura degli arresti domiciliari, questa volta a San Giovanni Valdarno. E qui nel corso dei normali controlli che si attuano nei confronti di chi è gli arresti domiciliari, i carabinieri hanno rinvenuto poco meno di 6 grammi di cocaina e quasi un grammo di crack oltre ad un belancino di precisione. Lo spacciatore è stato così arrestato per la terza volta consecutiva per il medesimo reato e sottoposto ad un'udienza con rito direttissimo. Adesso si trova agli arresti domiciliari proprio nella stessa abitazione ma nel caso in cui l'autorità giudiziaria dovesse decidere un aggravamento della misura detentiva l'uomo potrebbe finire nuovamente in carcere.